Questo pezzo di territorio ha ottenuto tanto, quali sono stati i criteri di selezione? Per la prima volta nella storia dell'amministrazione regionale, prima di mettere in atto delle politiche turistiche, l'istituzione regionale decide di dotarsi di un manuale, un manuale messo a disposizione di tutti, ma che viene collegato direttamente ad una cabina di regia, quindi si fa un manuale, si adotta un manuale e si istituisce una cabina di regia che attraverso questo manuale deve individuare sulla base di criteri precisi quali sono i marcatori identitari distintivi. Tra questi criteri vi è addirittura la definizione del marcatore identitario distintivo che viene adottata nel manuale, fatta proprio ufficialmente dal manuale, quindi dalla Regione Calabria, per la nuova progettazione turistica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di ribaltare la narrazione turistica che fino ad oggi è prevalsa in Calabria, ma che è prevalsa un po' anche nelle programmazioni, nelle narrazioni turistiche delle altre regioni italiane, cioè il valore del paesaggio cambia. Il paesaggio e l'immagine paesaggistica non è considerata più l'elemento distintivo, perché non lo è mai stato in realtà. E non è competitiva, perché su scala globale con i paesaggi si compete con il resto del mondo. I luoghi distintivi invece nella Siberia, di quelli che hanno colto l'appetito di chi ha voluto inserire questi luoghi nel MID? Allora, l'analisi che è prevalsa ha zoomato appunto su quelli che sono gli aspetti identitari distintivi. E ciò che è emerso è che la città di Corigliano Rossano è sicuramente tra i territori di Corigliano Rossano, sono quelli che in una mappatura di 100 probabili MID è quella che ne eredita, ne conserva e ne può promuovere di più. Ma ci sono decine e decine di marcatori identitari distintivi e anche semplici che sono diffusi in tutte e cinque le province, ripeto, ribaltando la narrazione, partendo da un presupposto che la Calabria non è affatto la regione più bella del mondo. I paesaggi calabresi non sono i più incantevoli del mondo, i tramonti, il mare, le spiagge, le colline, le montagne. È un patrimonio interessante che la regione Calabria condivide con il resto del pianeta. C'è bisogno di altro, perché ce l'ha altro la Calabria, per attrarre target di visitatori diversi, per esempio dal turista balneare, che è quello più basso spendente. Allora, quando iniziamo a dire, a raccontare al mondo che la Calabria è la terra in cui, per esempio, è stato scritto il teorema di Pitagora, e ce l'hai solo tu, il teorema di Pitagora, chi non conosce il teorema di Pitagora nel mondo? È stato scritto in Calabria. Quando cominci a dire al mondo e a raccontare in maniera diversa che la Calabria è la terra in cui è stato ideato il calendario, oggi utilizzato in gran parte dei paesi del mondo, il calendario gregoriano, quando comincia a dire che la Calabria è la terra in cui sono nati gli inventori dell'anatomia, della chirurgia, del terzo pedale al pianoforte, di tantissime altre cose, di argomenti diversi, la terra che ha dato i Natali all'ultima donna processata per streconeria. Insomma, ci sono tantissime narrazioni connesse ad elementi materiali ed immateriali che solo la Calabria ha e che quindi la rendono da questo punto di vista identitaria e distintiva e quindi in maniera competitiva. Su questa griglia di marcatori identitari e distintivi può e deve essere costruita da questo momento in poi la progettazione della nuova immagine della Calabria, della nuova narrazione della Regione per internazionalizzarla, per destagionalizzarla, per attrarre, ripeto, visitatori potenziali da tutto il mondo dai mesi da gennaio a dicembre. Ed è ovvio che poi attorno al patrimonio dei marcatori identitari e distintivi, che non può essere tutta la Regione, è ovvio che poi attorno a questo patrimonio e insieme e attraverso questo patrimonio vengono rafforzati gli altri attrattori identitari della Regione, per esempio quelli paesaggistici, per esempio il patrimonio architettonico, archeologico, il patrimonio che già conosciamo, però non è con quello che ci possiamo presentare e dire al mondo anche con una certa presunzione che siamo i più belli del mondo. Del resto, l'analisi empirica, i risultati, gli indicatori di quello che è stato fatto negli ultimi 40-50 anni in termini di progettazione turistica fondata solo ed esclusivamente sulla presunzione o comunque sulla presentazione della Calabria come l'Eden, il paradiso terrestre, probabilmente non hanno prodotto i risultati che aspettavamo, cioè non coincidono in termini di risultato. Quindi cominciamo a raccontare dati meno sconfessabili che hanno a che fare, ripeto, con realtà esistenti. Tra l'altro quello che emergerebbe fuori dal racconto dei MID è che anche il baricentro dell'attenzione politico-istituzionale si sposta dalle città, delle località che fino ad oggi hanno avuto un'attenzione mediatica solo ed esclusivamente di tipo baleare a tutta l'entroterra calabrese che è fatto di un patrimonio identitario e distintivo importantissimo. Se io penso a Cirò, che ha dato i Natali a Luigi Lilio, cambia la riscrittura non solo della relazione della Calabria ma cambia anche la mappatura delle attenzioni istituzionali nei confronti di un territorio che fino ad oggi non ha mai avuto l'attenzione che forse meritava. La stessa cosa potrebbe dirsi per Campana dove c'è l'elefante di pietra, la stessa cosa potrebbe dirsi per Soveria e Simeri dove è nata e vissuta Cecilia Faragò, l'ultima donna processata per stregoneria. Ma poi ci sono, ripeto, tutte e cinque le province calabrese sono ricchissime di MID. Non è coperta da questo punto di vista. Io ritengo che la Calabria rispetto alle altre regioni italiane in proporzioni a superficie, popolazione e tanti altri aspetti, sia la regione che ha forse il maggior numero di marcatori identitari e distintivi e su questi può iniziare a costruire una nuova progettazione turistica. Aggiungo che il metodo dei MID per quello che mi riguarda è replicabile su scala nazionale perché può essere tranquillamente utilizzato in tutte le altre regioni italiane per la stessa internazionalizzazione più efficace del brand Italia, a partire per esempio dal censimento, per la prima volta perché non è mai stato fatto, dei mille marcatori identitari e distintivi dell'Italia perché quelli che all'Italia non ce l'ha il resto del mondo e anche in questo caso non sono soltanto nelle città d'arte ma sono nell'entroterra della penisola. Senta, in chiave di sintesi e di pragmatismo, qual è l'invito che rivolge la cabina di regia alle amministrazioni locali, alle sovrintendenze, alle province, alle insubregionali? L'invito è a essere economici, cioè a mettere da parte gli aspetti o comunque una propensione che spesso vi è in Calabria autolesionista di tipo storiografico, di tipo letterario, di tipo di contrapposizione anche municipalista. In questo caso noi dobbiamo essere bravi a raccontare la competitività economica dell'intera regione attraverso i mid, senza inventarci storie ulteriori e telenovela perché nessuno a Verona e nel Veneto fa polemica sul finto balcone di Romeo e Giulietta, nessuno in Transilvania fa polemica sul finto castello di Dracula, nessuno in Scozia si permette di dire che il mostro di Loch Ness non esiste, eppure ci sono fiumi di turisti che vanno a vedere il mostro di Loch Ness. Quindi noi dovremmo semplicemente essere bravi a non attaccarci tra di noi come municipi, comuni, territori storici eccetera 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 e fare un ragionamento di marketing territoriale. Funziona dire al mondo che la Calabria è la terra in cui è stato scritto il teorema di Pitagora? Sì, benissimo. Andiamo avanti e su questo probabilmente possiamo costruire appeal, competitività e ricettività di questa regione per 12 mesi all'anno.